Ciao a tutti, questa settimana come Commissione Estere e Commissione Difesa ci stiamo occupando del decreto proroga delle missioni internazionali, il Movimento 5 Stelle è contrarissimo a delle missioni di guerra per portare la pace. Una vergogna di questo decreto è che le missioni non sono spacchettate, vi spieghiamo. Abbiamo varie missioni utilizzando i nostri valorosissimi soldati in giro per il mondo, ma non tutte le missioni sono uguali. La guerra in Afghanistan che è una guerra, una guerra persa, una guerra di invasione, una guerra imperialista è una cosa e il Movimento 5 Stelle è contrarissimo appunto a portare la pace con le bombe a Onossimono come dissi ieri in aula, come dire Berlusconi Onesto, ma per esempio avremmo potuto votare favorevolmente alla missione in Libano perché sono cose totalmente differenti, da una parte peacekeeping, da un'altra parte guerra. Ci stiamo opponendo in maniera feroce e chiaramente chiedendo anche che vengano approvati alcuni emendamenti, utilizzando anche la possibilità di fare costruzioni in aula. Ancora non l'abbiamo fatto ma abbiamo i numeri per farlo perché il governo si deve mettere in testa che ha a che fare con un'opposizione molto responsabile ma anche molto dura. Seguitela questa battaglia in questa settimana, appunto il rifinanziamento di una serie di missioni internazionali, anche con il finanziamento di parte della cooperazione internazionale e purtroppo il nostro Stato è da pochissimi fondi alla cooperazione internazionale, preferiamo appunto comprare gli F-35 o spenderli in missioni militari. Comunque seguiteci perché è molto molto importante l'informazione, soprattutto in situazione appunto di rifinanziamento delle missioni italiane all'estero. Salve a tutti, sono Emanuele Scagliusi. Questa settimana sono stato in Tajikistan come delegato OSCE per osservare le elezioni presidenziali che si sono svolte il 6 novembre. Il Tajikistan è una repubblica del centro Asia che ha molte difficoltà ad arrivare ad una democrazia compiuta. Infatti, come abbiamo visto nei vari seggi che abbiamo girato, i seggi elettorali, ci sono varie infrazioni. Praticamente c'è gente che vota in gruppo, gente che vota per delega, gente che entra insieme nei seggi. Ci sono molte linee guida internazionali e standard che non vengono seguiti. Quindi abbiamo elaborato un resoconto che l'OSCE ha pubblicato nella giornata odierna sul suo sito in cui critica lo svolgimento di queste elezioni poco democratiche e dà dei consigli al Tajikistan per migliorare questo processo e quindi per arrivare a una democrazia più compiuta. Diciamo che i brogli che abbiamo visto ci ricordano un po' le primarie del PD. Abbiamo notato anche una scarsa partecipazione femminile, dato che uno dei candidati che si opponevano al presidente, che ormai è presidente da 20 anni del Tajikistan e che anche questa volta ha rivinto le elezioni, dei candidati ce n'erano molti che erano comunque filo governativi e uno solo che avrebbe potuto dare difficoltà al presidente, che è una donna, ma non è stata ammessa alle elezioni poiché avrebbe raccolto un basso numero di firme. Un'altra battaglia che abbiamo fatto e che continuerà nei prossimi giorni è quella per la trasparenza, la legalità, l'onestà, l'etica, la morale nelle istituzioni, ovvero la battaglia è contro il ministro cancelliere perché è intollerabile un paese civile che dei delinquenti abbiano il numero privato di un ministro e il ministro risponda ma sì vedo quello che posso fare ai ligresti che purtroppo sono una famiglia estremamente importante in Italia. Il Movimento 5 Stelle si è comportato in maniera ottima, perfetta, in particolare alla Commissione Giustizia. Appena è uscita fuori la notizia, lo scandalo, immediatamente ci siamo mossi e abbiamo presentato una mozione di sfiducia perché appunto pretendiamo che il ministro cancelliere non sia più ministro della giustizia in Italia. Ieri ho visto su internet che Renzi, il buco con la camicia bianca intorno, diceva che il ministro cancelliere sarebbe dovuto dimettere. Benissimo, dato che lui sostiene di guidare un 200 parlamentari qui a Montecitorio del Partito Democratico, vediamo se questi 200 parlamentari voteranno la mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle. Gli sarebbero grati i cittadini italiani che credono appunto che le istituzioni debbano essere qualcosa di limpido, assolutamente di pulito. Seguiteci anche per quanto riguarda la battaglia sulla giustizia con la mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle sul ministro cancellieri e buona serata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.